Musica Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano in questa edizione del nostro Tg Il Caos Vaccini. La decisione dell'AIFA di sospendere la somministrazione dell'AstraZeneca ha ovviamente avuto conseguenze anche sul territorio dell'intera provincia di Salerno dove l'ASL ha fatto sapere di aver naturalmente fermato la vaccinazione con tale prodotto. Questo significa che sono rinviate tutte le vaccinazioni che riguardano in modo particolare le categorie per le quali era stata prevista la vaccinazione con AstraZeneca, quindi forze dell'ordine e personale docente. L'ASL ha invitato chi è stato chiamato a non recarsi presso il centro vaccinale e di attendere nuove comunicazioni. Resta invece confermata la campagna vaccinale che è stata realizzata dall'amministrazione comunale che viene effettuata presso il centro vaccinale dell'Augusteo dove come ha ribadito in una nota questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli vengono utilizzati Moderna e PopSizer. La decisione dell'AIFA di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca non incide sulla campagna vaccinale in corso nel comune capoluogo dove come fa sapere una nota dell'amministrazione comunale prosegue regolarmente senza nessuna interruzione l'attività del centro vaccinale aperto dal comune di Salerno pochi giorni fa nel teatro Agusteo ma anche in tutti gli altri centri vaccinali della città. L'Asla Salerno ha detto il sindaco Vincenzo Napoli per le vaccinazioni già svolte e quelle in programma nei prossimi giorni sta utilizzando i vaccini Moderna e Pfizer. I convocati possono pertanto presentarsi nei giorni e negli orari assegnati per sottoporsi alla vaccinazione. La sospensione cautelativa del vaccino AstraZeneca dunque non ferma la campagna vaccinale a Salerno. Seguiamo con grande attenzione l'evoluzione della situazione, ha aggiunto il primo cittadino a tutela della salute dei nostri concittadini. Il sindaco ha rinnovato anche l'invito a rispettare tutte le prescrizioni anti-covid dunque uscire di casa solo per motivi urgenti di salute, lavoro, necessità, indossare naturalmente sempre la mascherina ed evitare assembramenti. Intanto questa mattina proprio su questo argomento abbiamo chiesto l'intervento ed il commento della Presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno. Ascoltiamo. E' assurdo avviare i procedimenti giudiziari nei confronti dei medici che stanno operando in prima linea per dare il giusto impulso al programma vaccinale in Italia, additandoli come responsabili delle conseguenze imprevedibili dell'inoculazione del vaccino. Non possiamo trasformare i medici da eroi a imputati. Così il medico chirurgo Tommaso Pellegrino, capogruppo d'Italia Viva nel Consiglio regionale della Campania, che auspica che il Governo intervenga al più presto garantendo le opportune tutele a tutti coloro che sono impegnati nella campagna vaccinale, così da superare questa clamorosa ingiustizia che rischia di rallentare ulteriormente la corsa al vaccino. Dopo lo stop dell'AIFA dei vaccini di AstraZeneca, la campagna di vaccinazione è tutta da rimodulare. Regioni alle prese con lo slittamento delle procedure per le prenotazioni. Tanti coloro che hanno già ricevuto la prima dose e che si chiedono cosa accadrà per la somministrazione della seconda. Al momento le certezze che le vaccinazioni con Pfizer e Moderna continuano, mentre gli appuntamenti per AstraZeneca slitteranno almeno fino al parire dell'EMA, che si confida possa arrivare in tempi brevi. Un verdetto che se non dovesse consentire il prosieguo della somministrazione, non impedirà comunque di completare la vaccinazione per quanti hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, anche se con un vaccino diverso. Lo ha ribadito ai nostri microfoni anche il presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D'Angelo. Questa cosa ha un poco, diciamo, creato preoccupazione e panico in alcuni. Posso dirle che, anzi forse non è corretto, ma voglio dire, qualcuno della mia famiglia ha fatto proprio quel set, quell'otto di vaccini dell'AstraZeneca. E ciò nonostante, insomma, voglio dire, grazie a Dio, fino ad ora non è successo nulla. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si fanno dei vaccini che sono di nuova produzione, non dobbiamo guardare per esempio al vaccino dell'influenza. Quello è datato da anni e anni e anni, è sottoposto chiaramente a variazioni a seconda della tipologia del virus che attaccherà l'influenza, però sostanzialmente ha una base solida. Ora noi stiamo, in qualche modo, vaccinando su un virus che neanche è conosciuto fino in fondo. Quindi delle cose possono sfuggire. Ma io sono del parere che ci sono delle ragioni e delle metodologie di analisi di questo problema. Uno è quello di aspettare, verificare sui decessi quali sono le ragioni vere o le ragioni particolarmente vicine alla verità che hanno causato il decesso. Verificare se quelle cause non possono essere con causa, ma non causa. Io ho un difetto coagulativo e questo virus inoculato, l'adenovirus modificato, può aver dato, come dovrebbe dare normalmente, un fatto di evidente infiammatorio. Se su tutti, o una buona parte, hanno fatto 15 milioni di persone questo vaccino, non ha mai generato questo problema, probabilmente ci possono essere delle ragioni in situ, cioè sulla persona, non una ragione generalizzata. Sicuramente serve cautela. In tanti oggi si chiedono chi già ha avuto la prima somministrazione e cosa accadrà quando poi ci sarà il richiamo. Sì, se lo chiedono, ma la soluzione secondo me la dobbiamo vedere a breve. Perché probabilmente non penso che loro potranno mantenere questa questione per lungo tempo non dissolta. Tutti in campo per somministrare vaccini in ogni dove, studi, medici, luoghi all'aperto, insomma bisogna fare in fretta. Dico come il generale, l'ha sentito cosa ha detto, no? Ha detto prendete qualcuno che sta passando, se vi è rimasto qualche fiale e fategli il vaccino. Ovviamente non vogliamo ridicolizzare, nel generale voleva dire questo, ma voleva dire che in ogni caso, qualunque modo, qualunque forma, ovviamente nei limiti del rispetto delle modalità, diciamo, di sicurezza, va utilizzata per accelerare quanto più possibile la vaccinazione, sia nel numero, sia chiaramente nella tipologia. Nel senso che va benissimo, arriverà il Johnson & Johnson, dovremo servirci, non possiamo scegliere come si va su un banco, diciamo, io voglio questo anziché questo. Le dosi sono quelle, arriveranno di volta in volta dosi differenti, ci adatteremo, anche perché i valori di ogni vaccino sono sempre superiori a quelli che sono dati come sicurezza rispetto alla possibilità che si ha il fenomeno del greggio. Intanto, a proposito dei problemi rilevati con il vaccino di AstraZeneca, il Codacons, l'Associazione dei Consumatori, ha pronta una class action. I dettagli nell'intervista anche con Matteo Marchetti. Il giorno dopo la decisione dell'AIFA di sospendere il vaccino AstraZeneca, in seguito alle indagini aperte dalla magistratura su casi di decessi sospetti registrati anche in Italia, l'Associazione dei Consumatori, il Codacons, scende in campo, anche in campagna, promuovendo una class action per intentare un'azione risarcitoria a favore dei cittadini che, a seguito della somministrazione del vaccino anti-Covid, abbiano subito reazioni avverse gravi. L'Associazione, che rappresenta i consumatori, racconta di ricevere denunce da cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione con AstraZeneca e che segnalano problemi, in alcuni casi anche gravi. Matteo Marchetti, alla guida della Codacons in provincia di Salerno, ovviamente chiarisce che dovranno essere le autorità preposte a valutare un possibile nesso di causalità tra vaccinazioni e reazioni, ma che nel frattempo il Codacons sta raccogliendo le pre-adesioni per intentare un'azione risarcitoria allo studio dell'Associazione, alla quale possono aderire gratuitamente e senza impegno tutti i cittadini della campagna che abbiano avuto reazioni avverse al vaccino. Nelle indicazioni che vengono consegnate a chi si vaccina ci sono degli effetti molto comuni che si verificano come sensazione di stanchezza, brividi, mal di testa, sensazione di malessere, nausea, poi degli effetti comuni, gonfiore, arrossamento, febbre sotto i 38 gradi e in più degli effetti non comuni, sonnolenza, diminuzione dell'appetito, ingrossamento dei linfonodi. Ora che succede? Che nel caso in cui si dovessero verificare degli effetti diversi da questi previsti innanzitutto si deve andare in farmacia, si deve ricorrere ai propri medici, quindi assolutamente si deve andare in ospedale lì dove si può, quindi contattare subito questi soggetti. Una volta che si sta bene a quel punto ci si può iscrivere in questa pagina predisposta dal Codacons nazionale perché si sta valutando la possibilità di agire per i danni, lì dove ci sono delle conseguenze non previste dal cosiddetto bugiardino. Quindi questa prescrizione, preadesione è assolutamente gratuita, invitiamo, sperando che siano pochissimi casi, ma comunque invitiamo ad andare sulla pagina del Codacons perché, ripeto, si è intervenuti a tutti i livelli nei confronti di AstraZeneca a livello nazionale e si è intervenuti anche con un tribunale di Roma che poi ha stabilito che dovessero indicare esattamente le condizioni contrattuali. Questo a monte dello sviluppo del vaccino, della distribuzione del vaccino in Europa e in Italia. Chi vuole avere ulteriori informazioni cosa deve fare, Maschetti? Allora, è molto semplice, veramente basta andare sul sito del Codacons e gli troverà tutte le indicazioni, quindi in questo caso non c'è bisogno neanche di telefonare. Però l'importante è dire che se si dovessero verificare situazioni anomale bisogna assolutamente rivolgersi ai propri medici e andare in farmacie, insomma, risporre tutte le misure cadolative del caso. La cosa importante è che bisogna vaccinarsi, questo lo diciamo, e ripeto, tutte queste precauzioni, anche questo stop al vaccino, viene fatto esclusivamente per tutelare i cittadini. Intanto, a proposito di reazioni avverse, sotto esame anche quanto accaduto a Vibonati, dove un vigile è morto dopo aver avuto la dose di vaccino Pfizer. La Procura di Lago Negro ha disposto il sequestro della Salma di un vigile urbano 62enne di Vibonati. L'uomo, intorno alle 20 e 30 di ieri, ha avuto un malore che ne ha provocato la morte improvvisa. Poche ore prima, nell'ospedale di Sapri, gli era stata iniettata una dose di Pfizer, il vaccino anti-Covid. Al momento non è possibile appurare una correlazione tra il decesso e la somministrazione del siero. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto. Non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del vaccino, spiega Rocco Calabrese, direttore sanitario dell'ospedale di Sapri. Tra l'altro, risulta che il paziente fosse affetto da patologie pregresse di natura metabolica e cardiocircolatoria. Inoltre, per il 62enne di Vibonati, così come previsto dalle linee guida in ambito vaccinale, a vaccinazione eseguita sono stati rispettati 15 minuti di osservazione, nell'arco dei quali lo stesso non ha lamentato nessun disturbo. Sconcerto nel golfo di Policastro, da 33 anni Michele Quintieri era in servizio presso il comune di Vibonati. In tanto, glielo ricordano come una persona buona e disponibile. Già nella serata di ieri, il medico di famiglia ha escluso la correlazione tra la vaccinazione Pfizer e le patologie che Michele aveva. Si attende dunque l'esame dell'autopsia per fare chiarezza sulla causa che ha provocato il decesso. In momenti come questi, dichiara il primo cittadino di Vibonati, Brusco Franco, è davvero difficile esprimere con parole il grande vuoto che Michele Quintiero ha lasciato in ognuno di noi. Michele non era solo un vigile urbano, ligio al suo dovere, ma era soprattutto un amico, una persona semplice e disponibile su cui si poteva sempre contare. Il suo sorriso contagioso e la sua umanità mancheranno a tutti noi e alla comunità intera. Questa amministrazione, conclude il sindaco, proclamerà il lutto cittadino il giorno delle seque per esprimere il cordoglio per la scomparsa del caro Michele come segno di vicinanza dell'intera comunità di Bonatese a tutti i familiari. La cronaca con delle notizie che ci vengono inoltrate dalla questura di Salerno che fa sapere che la polizia a Cava dei Tirreni ha arrestato un incensurato per spaccio e detezione illegale di munizioni per armi da guerra all'interno della casa. Gli hanno infatti trovato 12 cartucce calibro 7,62 Nato di due contracciante legate da una cartucciera originale in metallo per mitragliatrice. Sono naturalmente in corso ulteriori indagini. Mentre nella città di Salerno gli agenti della polizia di Stato hanno fermato una persona di 26 anni che nonostante l'arresto già subito lo scorso 29 dicembre per le stesse ragioni, cioè traffico di sostanze e stupefacenti, è stato sorpreso mentre cedeva delle dosi di droga ad un tossico dipendente, tra l'altro già iscritto al CERT. A seguito di perquisizione personale addosso al 26enne sono stati trovati nove involucri termosoldati contenenti sostanza stupefacente. Adesso andiamo a Bellizzi, c'è attesa per l'assemblea in programma domani che è il tentativo da parte delle organizzazioni sindacali di richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla chiusura dell'azienda di Bellizzi. Oggi il sindaco Mimmo Volpe ha già scritto al ministro dello sviluppo economico. È partita questa mattina dalla residenza municipale di Bellizzi una lettera congiunta indirizzata al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, nonché all'assessore regionale e alle attività produttive Antonio Marchiello e al prefetto di Salerno Francesco Russo per chiedere la convocazione di un tavolo di crisi dell'avvertenza delle officine Maccaferri. A poche ore dall'assemblea convocata per domani mattina in modalità telematica dai sindacati di categoria dopo la notizia che lo stabilimento di Bellizzi impegnato nella produzione di griglie, grigliati e telemetalliche a Bellizzi dal 1953 chiuderà disponendo la cassa integrazione per 32 lavoratori, il sindaco Mimmo Volpe ha chiesto con urgenza un tavolo di crisi per affrontare in modo globale non solo la problematica della Maccaferri ma soprattutto il destino dei lavoratori e la possibilità di individuare ogni soluzione che consenta il prosieguo delle attività o la ricollocazione delle maestranze in altre attività produttive del gruppo. Sì, mi sono aggiunto alle convocazioni di questi mesi di sindacati di CGL, CISL e Will in merito a questa avvertenza Maccaferri che è diventata effettivamente una storia un po' intrigata, cioè non si riesce a capire perché questo gruppo, questa società non entra nell'ambito del concordato generale della Holding Maccaferri, perché lei deve sapere che la Holding Maccaferri gestisce oltre 7-8 stabilimenti in Europa, quindi oltre a occuparsi dei gabbioni si occupava anche di energia e di altre attività. Non capiamo perché questi 32 lavoratori debbano essere esclusi da qualsiasi processo di rimissione in forza lavoro, quindi non capiamo. Io da più parti ho detto attenzione, qui non sarà consentito nessun tipo di speculazione su questo stabilimento se non parliamo prima della ricollocazione e della continuità lavorativa di questi lavoratori. Sì, domani c'è l'ennesimo incontro dove partecipo anch'io, dove continuerò a dire che c'è tutta la disponibilità se c'è bisogno di aria, di delocalizzare, di accompagnare questo processo, qui attiviamo tutta la politica della semplificazione possibile. L'altra ho scritto ufficialmente al Ministro perché credo che questa storia doveva essere già messa sul tavolo nazionale, perché parliamo di un concordato dove c'è un grosso gruppo Carlight che io mi sembra di aver letto che è saltata anche questa garanzia di Carlight che per intervenire nel gruppo Maccaferri. Però la cosa più importante è capire perché in questo momento particolare dove ci sono soldi che il Governo ha messo in discussione per la regimentazione del rischio idrogeologico dove servono i campioni e Maccaferri era leader a un marchio straordinario, aveva un'esclusiva europea in merito a questa attività. Non comprendiamo per quale motivo dalla sera alla mattina interrompe le produzioni e quant'altro. Io credo che c'è qualcosa che non funziona. Mi auguro che quanto prima si arrivi a sbrogliare perché in Emilia Romagna deve sapere che comunque le aziende che ruotavano intorno al gruppo Holding Maccaferri si stanno ricollocando in Emilia Romagna. Ho visto che ci sono delle ricollocazioni con la garanzia che i lavoratori vengono rimessi nel processo produttivo. Quindi credo che anche loro devono far parte di questa partita perché non si può considerare questi lavoratori che sono i figli dei figli che hanno arricchito la Holding Maccaferri. Maccaferri sta qui dal 1953. Sono anche cittadini onorari i Maccaferri. Questi sono i nipoti, i figli e i nipoti dei fratelli Maccaferri. In pratica Maccaferri ha attivato una procedura di liquidazione delle aziende che ha in tutta Italia ma sembrava che lo stabilimento di Bellizzi non rientrasse in questo processo. È una società a parte. Non abbiamo capito perché è stata tirata fuori. Però poi mi dicono che hanno venduto il terreno ma ufficialmente non risulta da nessuna parte. Io capisco che nel concordato hanno messo tutto l'aspetto patrimoniale per cercare di dare i numeri per uscire fuori e accettare il concordato. Però io so che c'è anche un'inchiesta della magistratura bolognese. Sappiamo benissimo che c'è un mercato parallelo, che la stessa Maccaferri ha indirizzato a altri stabilimenti l'attività di produzione. Piccoli imprenditori che fanno le attività di gabbionatura quindi stanno lavorando ma credo che appartenevano comunque già a questa catena di produzione perché dalla sera alla mattina un gruppo europeo che forniva gabbioni in Europa, in Africa, in Asia, alla fine scompare dalla sera alla mattina. Non credo. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. C'è un'altra categoria produttiva che si sente svantaggiata dai provvedimenti regionali. Ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi. I venditori ambulanti protestano contro la chiusura dei mercati. Ieri la nuova ordinanza emanata dal presidente De Luca sembra in qualche maniera aprire a queste possibilità ma l'Amba chiede chiarimenti perché non è tanto chiaro che cosa si può fare realmente nelle aree mercatali. Dettagli. E' caos sull'ordinanza numero 9 emanata ieri dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca in merito al punto relativo all'apertura dei mercati. L'Amba regionale ha chiesto un chiarimento alla regione perché nel punto in cui si deroga all'apertura dei negozi o box situati in prossimità o all'interno di aree mercatali dove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e anche agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica può intravedersi l'apertura anche dei mercati rionali. In aree mercatali per esempio come la recente nuova struttura di via Piave, la stessa area mercatale di via Robertelli a Torrioni o via De Crescenzo a Salerno dove gli ingressi possono essere contingentati o allo stesso tempo esiste la possibilità di allaccio alla colonnina dell'acqua avrebbero secondo il presidente regionale dell'Amba, Ciro Pietro Fesa, gli stessi diritti dei negozi situati all'interno dei mercati che da stamattina hanno riaperto al pubblico per effetto dell'ordinanza. In realtà quanto previsto dall'ordinanza 9 riguarda solo il mercato di fuorigrotta, l'unico in campagna dove esistono negozi all'interno, ma Pietro Fesa che da tempo sta sostenendo l'ingiusta scelta di chiudere i mercati rionali rilancia l'attenzione della regione la tesi degli ambulanti. Per tutelare i propri associati anche col diretti campagna ha inviato una nota alla regione in cui il direttore regionale Loffreda proporrà di dotare gli stand dei mercatini di campagna amica di un bagno chimico o di un correlato piano di sicurezza. L'ordinanza emanata ieri dal presidente De Luca ha anche imposto nuove limitazioni prorogando fino al 3 aprile la didattica a distanza, fermando altri tipi di attività di formazione comprese le scuole guida e nautica ed anche gli spostamenti verso le seconde case se non per motivi urgenti. E allora come promesso e anticipato torniamo a una cera inferiore che ha ospitato uno screening sulla popolazione e 500 cittadini che si sono sottoposti al tampone per verificare o meno la positività al coronavirus. Disciplinatamente in fila per sottoporsi al tampone. Questa mattina al palazzetto dello sport Palacoscioni di Nocere Inferiore in 500 si sono sottoposti al test diagnostico per individuare la presenza o meno del coronavirus. Lo screening è stato organizzato dall'amministrazione comunale di Nocere Inferiore su proposta dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. I ricercatori cercheranno di individuare eventuali varianti presenti nel virus che eventualmente verrà isolato tra le persone che si sono sottoposte allo screening. L'Istituto Zooprofilattico ha organizzato in diversi comuni della nostra area un prelevo di tampone per coronavirus a campione per studiare eventualmente la diffusione di eventuali varianti del virus nella nostra zona su popolazione che non abbia avuto contatti stretti, che non sia già in quarantena e che non abbia già la positività. Il nostro sindaco ha sempre una grossa attenzione verso il problema pandemico, assemblee di antenne alzate e ha avuto dei contatti tramite ANCI con l'Istituto Zooprofilattico e quindi ringraziamo lui perché c'è stata questa iniziativa. Intanto tiene banco la vicenda della sospensione del vaccino AstraZeneca, decisa ieri dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Il presidente della Commissione Consiliare Sanità, Vincenzo Stile, su questo argomento chiede chiarezza ma invita anche alla prudenza. La gente esige chiarezza, noi siamo favorevoli al vaccino perché il vaccino ci porterà fuori da questa emergenza, però siamo anche favorevoli a che ci sia chiarezza perché chi si deve vaccinare e si deve sottoporre a una vaccinazione per una malattia così importante esige chiarezza, deve stare sicuro in quel momento. Ora io non credo che quello che è successo sia significativo perché non ci sta nessun dato che mette in rapporto di causa-effetto le cose che sono successe alla vaccinazione. Mi spiego. In Italia durante un anno ci sono circa 200.000 casi di ictus cerebrale. Questo vuol dire che ogni giorno ce ne sono 600. La mortalità è intorno al 50%, quindi vuol dire che in Italia ogni giorno muoiono 250 persone per ictus cerebrale. Siccome siamo 50 milioni, sono 5 persone per un milione. Le vaccinazioni sono state fatte a AstraZeneca a un milione di persone. Quindi, ampiamente, 5 persone per un milione di abitanti muore per ictus cerebrale in una giornata e per quanto riguarda le vaccinazioni sono state fatte un milione di vaccinazioni a AstraZeneca in tanti giorni e sembra che i casi sospetti siano nell'ordine di 4 o 5. Quindi potrebbe non esserci una concatenazione di causa-effetto, ma solo una concatenazione temporale. Ma questo non lo può dire il dottore Stile o un altro dottore. Lo deve dire un organismo importante come l'EMA, lo deve dire un organismo importante come l'AIFA, lo devono dire i governi perché la gente deve stare sicura, perché si prenda una decisione netta. Se non ci sta nessun rapporto tra questi casi e la vaccinazione AstraZeneca, si continui la vaccinazione. Ma se ci trova anche il minimo barlume di rapporto, abbiamo tutto il tempo per cambiare perché ci sono tanti di quei vaccini che devono arrivare che non abbiamo scelto. Sì, ritarderemo un po' la campagna vaccinale. Però sicuramente alla fine del mese ci sarà l'arrivo di altre vaccinazioni. Per cui la cosa maggiore che chiedo a nome della gente è la chiarezza. Ora le previsioni del tempo e poi subito dopo il nostro TG Sport. A Salerno dal 1982, Ippocar, officina e ricambi meccanici, specialisti nell'installazione di impianti a gas e GPL metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato, officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione, ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto e inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice. Servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar, via Pietro del pezzo 55. Nuova sede di Apicenza 94-100. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schierite alternate a nudi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, cieli nuvolosi, con possibili brevi rovesci nevusi. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Andiamo ora al basket. La Giva Vascafati ha annunciato ieri l'ingaggio del pivò Riccardo Cervi, che deve recuperare la forma migliore e sarà disponibile più avanti. Domani intanto la squadra di Finelli sarà di scena a Roma per un recupero di campionato. Il loro basket non ha neanche giocato domenica. Hanno avuto una settimana intera per prepararsi alla partita contro di noi. Sicuramente faranno degli aggiustamenti rispetto a quella che è stata la partita che abbiamo giocato qui a Scafati. La si può vedere quasi come una partita di play-off, perché rigiocare con la stessa squadra dopo una settimana all'interno di un campionato non è un classico. Quindi la si può vedere proprio come una partita di play-off. Sulla scolta dell'esperienza di mercoledì scorso, cosa servirà per vincere a Roma? Non ho capito... Su ciò che è successo mercoledì scorso, sulla partita che abbiamo giocato a mercoledì scorso, cosa servirà secondo te per vincere questa partita di domani a Roma? Per battere l'Eurobasket servirà avere lo stesso impatto a livello difensivo che abbiamo avuto nella partita casalinga. Abbiamo fatto un buon lavoro nel contenere la loro energia, specialmente all'inizio. Poi in attacco, onestamente, quella partita c'entrava veramente di tutto ed è difficile che riusciremo a ripetere una prestazione di così alto livello al tiro. Perciò ciò che sicuramente dovremo mantenere è l'intensità aggressiva, l'intensità difensiva, aggressività e un buon lavoro sui due americani e sui loro giocatori in grado di poterci mettere in difficoltà. Infatti è un bilancio su quest'inizio dell'esperienza dopo cui hai scappato, come ti stai a Roma? Sono molto contento della scelta che ho fatto, come ti avevo detto tempo fa, le ambizioni e la voglia di questa società di vincere e di ottenere risultati importanti è stata constatata. Sono stato molto contento che ci siamo qualificati per la Coppa Italia, che per me sarà la prima esperienza in un torneo di questo tipo e spero che il nostro proseguo sia sempre più positivo. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand Grazie a tutti.